Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia. Io parlo l'italiano molto bene. Episodio 1. Solo italiano. Trova un posto comodo per sederti. Disincrocia le gambe. Forse vuoi sederti su una sedia comoda o all'indiana sul pavimento oppure su un tappeto. Oppure ancora vuoi coricarti con le braccia ai lati. Adesso chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro. Respira lentamente. Inspira, trattieni il fiato e senti il battito del tuo cuore. Espira. Mentre ti rilassi, permetti alla tua immaginazione di aiutarti a ricordare una piacevole esperienza di apprendimento. Una volta in cui hai imparato qualcosa di importante per te. Può essere successa di recente o molto tempo fa. Da solo o con altri. Richiama alla mente l'ambiente. Che caratteristiche speciali ha questa esperienza? Curiosità, gioia, sicurezza. Permetti di rivivere quelle caratteristiche. Lascia che ti riempiano. Adesso immagina di essere già in grado di capire l'italiano. Di leggere e conversare in italiano. Immagina un gruppo di simpatiche persone italiane e di parlare con loro. Sono tuoi amici. Nota lo sguardo dei tuoi amici. E molto più importante, tu sei fiero di te. Perché parli l'italiano molto bene. Ripeti mentalmente. Io parlo l'italiano molto bene. Io parlo l'italiano molto bene. Hanno un regalo per te. E una scatola colorata con i colori dell'arcobaleno. Rosso. Arancione. Giallo. Verde. Blu. Indaco. Viola. Li ringrazi. E la prendi in mano. La guardi. La scuoti. Senti il suo piacevole peso. Nelle tue mani. Questa scatola contiene tutte le caratteristiche positive della tua esperienza speciale di apprendimento. Contiene la gioia. La curiosità. La sicurezza. E tutte le altre cose positive che ci vuoi mettere dentro. Puoi immaginare di prendere questa scatola ogni volta che vuoi provare gioia, curiosità e sicurezza. E ogni volta che vuoi parlare l'italiano. E ogni volta che vuoi parlare l'italiano. Quando sentirai il numero 10, ti sentirai felice e in armonia con te stesso e con la vita. E ti sentirai così ogni volta che parlerai in italiano. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Due. Due. Ricorda. Quando sentirai il numero 10, ti sentirai felice e in armonia con te stesso e con la vita. E ti sentirai così ogni volta che parlerai in italiano. Sei. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Apri gli occhi. Bentornato. Sei felice e in armonia con te stesso e con la vita. Sei felice e in armonia con te stesso e con la vita. italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.